bella ragazzi benvenuti in questo nuovo video dal vostro mattiuccio tv e oggi vi parlo del mio toro che ieri sera ha pareggiato 1 a 1 contro la lazio in casa ovviamente nostra come mi sembra partita poi andiamo nei facendoli non vi preoccupate ah no devo prima dirvi una cosa importante che non c'entra il calcio non c'entra il toro vorrei dirvi allora invece di dire bella ragazzi o bella raga sennò che lo dicono quasi tutti youtuber io direi bella mattiani a chi segue il canale di mattiuccio tv quindi direi bella mattiani anzi facciamo già adesso bella mattiani benvenuti in questo nuovo video io sono mattiuccio tv questo era un esempio però lo farò nei prossimi video che caricherò questo adesso un esempio comunque a parte queste cose che per adesso c'è non servono a niente parliamo del mio torino allora cosa ne pensi alla partita partita dominata come come sempre dal nostro toro perché noi non dominiamo solo sanità nel sassuolo ma dominiamo anche le grandi squadre cioè con tutto il rispetto per sanità nel sassuolo però la lazio è di un altro livello o più su quindi ci fa anche capire che non dominiamo solo le squadre in questo tipo ma dominiamo anche le grandi squadre che sono piani alti della classifica e sinceramente si l'abbiamo dominata abbiamo fatto come sempre un bel gioco parte nostra potevamo gestire meglio il vantaggio nei ultimi minuti solo che gg fa una cosa fa una cosa un po c'è potevamo già farci fare il pareggio in contropiede però no su calcio rigore io non tollero fare segnare una squadra a un calcio di rigore perché io non lo tollero questo al massimo mi prendo il coltropiede però non un calcio di rigore e così adesso passiamo alle pagelle allora mico isavic 6 perché non ha avuto grandi interventi c'è neanche sul rigore di immobile sulla 1 a 1 non poteva fare niente perché immobili tirangolati quindi non poteva fare niente quindi do 6 bremeri do sempre 7 grande attenzione sempre del nostro numero 3 che sempre guarda le azioni quindi 7 gg gg l'unico male in difesa 5 gli do a gg perché a lui ha procurato il rigore del pareggio della lazio fallo conquistato da murici rigore netto insomma chi guarda questo video i tifosi razziali se non dico niente dicono c'era il gore netto io invece sono uno con le che dico le cose giuste perché io sono onesto questo era il gore netto infatti l'ha dato poi rodriguez 7 rodriguez mi è piaciuto molto anche lui grande attenzione quando la lazio si è dovuta far pericolosa passiamo al centro campo singolo sinceramente mi ha un po deluso ma poi come tutti i due gli esterni singole online non è che mi hanno fatto impazzire molto certo ovviamente c'è un margine di crescita però non è che mi hanno fatto impazzire per questa partita singoli do sei ma perché sennò andiamo alle calende greche poi pobega pobega 7 perché poi anche stare con mandragora ci dà tanta qualità sia pobega che mandragora quindi insomma è grande centro campo con mandragora e pobega insieme grande qualità e grande mentalità quindi set a pobega mandragora mandragora 6 perché c'è si è impegnato fatto qualcosia ma non tantissimo che si bravo però poteva anche fare qualcosa di più secondo mio punto di vista o linea 6 diamo i sei come singolo cioè si meriterebbe qualcosa di meno linea come singolo però se non diamo le calende greche quindi online a 5 3 quarti breccalo mi ha un po deluso c'è col sassuolo ha fatto bene però contro la lazio non è che si è ripetuto quindi do un 6 a breccalo linetti quando lo vedo sempre 5 e 15 i 5 perché fa passaggi veramente neanche coordinati c'è non calibra neanche lasciamo perdere gli netti questo discorso lo parleremo poi quando ci avrò voglia sanabria sanabria 6 ha dato e lui è stato su me più pericoloso dei nostri di sicuro come un attaccante vero perché ha tirato la prima palla è andata vicino al palo poi gli altri due di testa uno cross di online all'altro cross di il cross di gg mi sembra gg gg o singolo dai non mi ricordo adesso l'altro online a un altro dai facciamo così meglio subentrati subentrati allora a piazza piazza mi è piaciuto come sempre come una volta piazza seconda volta di fila che mi piace piazza perché da veramente è un rapace d'aria può tirare sia col piede con di te di testa non cambia niente per lui qui insomma è un rapace d'aria anche se non è un attaccante vero ma un trequartista però sembra quasi che fa l'attaccante vero un bravo un bravo giocatore secondo me mi dispiace la carriera che ha avuto tra infortuni vari qua e la però su me puoi riprendersi le cose che non ha fatto prima può fare bene al torino secondo me come ha detto lui in conferenza stampa in presentazione sono d'accordo con lui e su me poi con questo secondo gol di fila su me si merita quello che non ha fatto prima mi dispiace quello che non ha creduto in sé la juventus perché si fortuni magari poteva farlo crescere perché era ancora più giovane però mi dispiace che la juventus non ci ha creduto c'è ancora suo può ancora riprendersi però per adesso è il nostro prestito da juventus però mi mi dispiace che la juventus non ci abbia creduto in lui niente mi dispiace però su me può riprendersi se predatorio ma da un'altra sfonda cioè granata spero che facci bene quindi piazza 7 poi chi è entrato aspetto ansaldi a posto di o line a saldi 6 su me ha fatto ha fatto bene dai diciamola così sostanza 6 rincon da accettarmi che non si vedeva oggi ha giocato a posto di 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 mandragora mandragora po becca comunque no a posto di niente scusate a posto di niente rincon sei ha avuto qualche palla ma non tantissime per essere pericoloso e sfruttarla però va bene così e poi mi sembra che entrato poi basta mi sembra solo loro poi la formazione a questa allora io direi due ultime cose per concludere il video una su iori c'è una sui g o gg ditelo come volete io chiamo gg perché come dire gg significa bravo chi non lo sa quindi dico gg e iuric sono d'accordo su iuric che siamo stati polli alla fine siamo stati polli alla fine non abbiamo sfruttato il vantaggio e niente siamo stati polli e potevamo fare di più solo me potevamo anche fare il 2 a 0 con sempre piazza che poteva fare anche la doppietta e fare il 2 a 0 però tetto reina e niente è andata così gol di immobile su rigore sempre a noi ci segna otto volte che ci segna immobile ma queste regole del calcio va bene così e poi su su gg io se sta guardando iuric questo video o meno però se sta guardando anche un tifoso del torino se d'accordo con me io direi non facciamo giocare più gg meglio perché gg fa guai cioè col sassuolo ha fatto bene perché il sassuolo con tutto il rispetto sempre non ha grandi attaccati come immobile anderson pedro murici che ti posso fare male a qualsiasi momento perché l'azio ha questi giocatori invece sassuolo a scamacca raspadoni berardi eccetera e bugà e bugà io non lo vorrei io se fossi iuric ce lo farei mai più giocare a gennaio lo venderei anche se cairo se cairo lo sta guardando questo video ma non credo ma neanche iuric però dico la mia e dico se c'è se c'è qualche tifoso del torino se sta guardando video spero che sia d'accordo con me gg non deve stare in panchina deve fare la riserva e zima deve stare zima titolare a fianco di bremer rodriguez zima zima deve può crescere con i titolari non in panchina io non capisco zima all'esordio contro la sanità l'ha fatto bene ha difeso bene la sua porta e ha fatto bene 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 e noi abbiamo subito gol grazie a lui anche io non capisco queste due partite di fila che iuric ce non vuole dare a zima che queste due partite di fila non ha giocato mi preoccupa anche se giovane sì però subito toglie il posto gg e deve essere lui titolare sì ma il futuro del torino secondo me non gg zima ricordiamoci sempre zima si ma deve essere titolare subito dopo questa partita subito zima comunque ah sì bella mattiani io vi lascio qui finito il video bella mattiani ci vediamo al prossimo video